Giudizia giudiziaria, Avvocato Cellammare, allora quali delle novità rispetto anche ai lavori da farsi alla ex sede dell'apertura di Ischia? Amedeo, finalmente abbiamo l'approvazione del bilancio della città metropolitana contenente il nuovo capitolo sui 600.000 euro destinati alla ristrutturazione del Palazzo di Giustizia di Ischia. Quindi siamo fiduciosi che i lavori si faranno e naturalmente auspichiamo che questi fondi arrivino al più presto perché poi c'è la questione dei lavori al liceo classico che va definita e noi non vogliamo essere di ostacolo naturalmente all'edificazione di un nuovo liceo classico per i nostri studenti. Voi dovrete lasciare quindi a breve la sede del liceo classico? Se noi, dico noi come comunità isolana, perché non mi riferisco solo ai miei colleghi, la giustizia è per tutti. Abbiamo lottato tantissimo, lo sapete, come leoni per mantenere la sezione di staccata a rischio e ci siamo riusciti. Siamo gli unici in Italia insieme a Lipari ed Elba che ci siamo riusciti. Oggi perdere gli uffici giudiziari sull'isola per una questione del genere, cioè per la mancata erogazione dei fondi per la ristrutturazione del Palazzo di Giustizia sarebbe una iattura per tutta la comunità isolana e sarebbe una sconfitta per tutti quanti noi, a cominciare dalle alte sfere politiche. Invece io penso che sinora i nostri rappresentanti politici hanno fatto tutto quanto potevano fare per risolvere il problema. Anzi, devo fare un plauso a tutti coloro che sono riusciti a far reinserire nel bilancio della città metropolitana questa posta e che sono riusciti anche a farla approvare. Ora però speriamo che questi fondi arrivino al più presto e che i lavori ricomincino subito, anche perché ci è stato detto che occorrono 4-5 mesi per portare a termine i lavori di edilizia giudiziaria all'ex sede. E quindi nelle more sarebbe opportuno ottenere un'altra breve proroga fino alla primavera del 2017 per completare i lavori e traslocare prima gli uffici giudiziari nella sede storica del Palazzo di Giustizia. Perché voi a dicembre dovreste lasciare? Sì, teoricamente sì. Adesso non so se il Comune di Ischia sia riuscito ad ottenere una proroga, altrimenti che io sappia per il 31 dicembre dovrebbe essere raso al suolo l'edificio del liceo classico. Il problema che noi ci poniamo è dove andranno a finire gli uffici giudiziari. Quindi occorre o una sede provvisoria, ma il trasloco sarebbe veramente pesante, come lo è stato nel 2011, o occorre ottenere una breve proroga. Io sarei più per la seconda soluzione. Mi auguro che il sindaco di Ischia e tutta l'amministrazione riesca ad ottenerla. Naturalmente, se ciò non è possibile, bisogna traslogare provvisariamente, non so, forse nel centro polifunzionale, magari con un nuovo protocollo di intesa con la città metropolitana, visto che i due enti interessati sono da una parte del Comune di Ischia e dall'altra la città metropolitana. Poi c'è il Ministero della Giustizia che in qualche modo entra in questa questione, perché dal settembre dell'anno scorso tutta la manutenzione degli uffici giudiziari è passata in capo al Ministero della Giustizia. Quindi sappiamo che ci sono anche 400 mila euro da parte del Ministero della Giustizia a disposizione degli uffici giudiziari di Ischia, che verranno impiegati questi fondi sicuramente per tutte le opere manutentive e per l'impiantistica, forse anche per gli infissi, c'è stato detto. Quindi bisogna dare un'accelerata a questa operazione, altrimenti si rischia di perdere tutto e sarebbe veramente un peccato dopo tutte le battaglie che abbiamo vinto.